Buongiorno, la segna stampa oggi su 14 aprile, vediamo quali sono i temi fondamentali, la farò molto breve. Fontana, secondo me, il direttore del Corriere della Sera ha fatto il pezzo più interessante oggi sulla politica perché ha detto che i partiti mi sembrano scrive Fontana in una palude totale. Quelli che avevano detto che se avesse vinto il no al referendum e poi dopo ci avrebbero messo poco a fare una riforma costituzionale sono scappati. Quelli che invece, come Renzi, hanno detto che dopo il no si sarebbe dovuto andare subito al voto immediatamente, sono altrettanto scappati. La cosa ridicola è che siamo in una palude totale, non stanno cambiando le riforme, non stanno cambiando la legge elettorale, ci stiamo accontentando di quella della Corte Costituzionale, non cambia l'assetto istituzionale di questo Paese quando si diceva sia dal no sia del sì che era necessario cambiarlo. Insomma, mi sembra veramente, dice Fontana, che siamo nella palude. Come non condividere questa analisi politica? Poi ci sono sui giornali oggi molti retroscena sul fatto che Calenda e Pado, anche se sono i ministri tecnici, sarebbero attaccati da Renziani. Non so se questo avviene, ma se vi appassiona lo trovate oggi sui giornali. L'altro grande tema di giornata è la grande bomba, Moab si chiama, una bomba enorme. Quello che c'è di più forte dopo la bomba atomica, secondo tutte le ricostruzioni e grafici del giornale molto belle, quelle di Corriere e Repubblica, che è stata sganciata da Trump per far fuori alcuni cuniculi in Afghanistan. Le interpretazioni sono varie, una cosa è certa che il Trump che fa il duro è un po' diverso dal Trump isolazionista di cui si parlava quando si candidò, è un po' diverso dal Trump che faceva gli accordi con Putin di cui si parlava all'epoca. Ha fatto fuori, sostengono alcuni retroscenisti, Bannon ha usato il suo genero e per questo si sostiene che l'utilizzo di una bomba che avevano là negli scaffali nei magazzini del 2003 mai usata sia il segno di passo di Trump. Su tutti i giornali c'è molto di questa roba. Su Consip si va avanti perché questo carabiniere avrebbe con questo errore materiale, secondo i buonisti, Travaggio, secondo invece i complottisti, attraverso questa retroscena avrebbe compromesso tutta l'inchiesta, Consip la cosa straordinaria è che l'inchiesta parte da zero e quindi si devono fare le perquisizioni. Nel frattempo c'è un signore in galera che si chiama Romeo che però quello l'abbiamo già condannato. Sulla RAI, prima di arrivare alla RAI c'è un pezzo incomprensibile, nel senso che poi se vi si applicate lo leggete tre volte lo capite di Rizzo, in cui spiega che i dipendenti della Camera e del Senato, utilizzando la prerogativa che loro hanno di non essere soggetti a nessuna legge se non alle proprie leggi, cioè l'auto da chia, la dico male, sostanzialmente hanno deciso di non mantenere sotto i 240.000 euro il tetto dei loro stipendi che pure il governo Renzi aveva fissato. Quindi funzionari della Camera e del Senato, gli unici al mondo in Italia, scusate, gli unici in Italia che possono avere uno stipendio, funzionari pubblici che possono avere uno stipendio superiore ai 240.000 euro. Uno si chiede perché? Anche perché oggi la polemica è stata messa sulla RAI, per cui il giornale dice che se ne andranno via tutte le star proprio per questo tetto, mentre le star del Senato e della Camera rimangono l'asta di attenza dei sicuri, mentre Vespa, Fazio, Annunziata, Giletti, se ne vanno via tutti perché pagati pochi. Ma la notizia della RAI stupenda oggi è il Sole 24 Ore. Se avete il tempo, guardatevi l'intervista fatta al Conte Mascetti del Sole 24 Ore, in cui il giornale sono solo 24 ore, ci ha messo ben due giornalisti per non fargli una domanda. Cioè è una marchetta al Conte Mascetti che non avete idea. Una sola cosa vi chiedo, cari amici del Sole 24 Ore, secondo voi se l'entrata straordinaria aggiuntiva quest'anno del canone, grazie al fatto che è in bolletta, è stata di 272 milioni di canone in più, 272 milioni di canone in più, e invece quest'anno il bilancio è chiuso in utile per 18 milioni, 272 milioni di canone in più, 18 milioni di utile. Se non ci fosse stato questo canone in più, che è stata la novità della leggerezza, come sarebbero andati i conti della RAI, amici miei del Sole, che sapete fare bene i conti meglio di chiunque altro, il Conte Mascetti ha buttato nel cesso milioni di euro dei contribuenti e per apianare questi conti ha preso il vostro canone. Lo dico io? Lo dice Fontana Rosa su Repubblica, dove dice che il costo del personale è aumentato, è derivato a 980 milioni di euro, le produzioni esterne hanno fatto fuori produzioni interne per mettere produzioni esterne, ha assunto una ventina di persone il Conte Mascetti, tra cui Parava, 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 Paravini e poi quello che c'è Pantaroni, che è fidanzato innamorato, soldato innamorato. Insomma, ha assunto decine e decine di persone, quelle uniche che stanno dentro, che gli hanno fatto e che continuano a dire che sono brave, le uniche cose che funzionano e che lo stesso Solo 24 ore dice che funziona, sono le fiction, l'unica persona che non ha assunto chi è? Il Conte Mascetti, il capo della fiction, che si chiama Matini e Andreatta e che prende 240 mila euro, ma vi rendete conto, cari amici del Sole? Vabbè, le marchette ci stanno, capisco che ognuno fa le marchette che vuole, stupendo quindi mettere insieme Repubblica, Fontana Rosa, il giornale, tutti i giornali normali e il Sole, 24 ore di oggi. All'Italia deve saltare o no? Alessandro De Nicola sulla Repubblica dice sì, deve saltare perché gli abbiamo già dato 7,5 miliardi di aiuti, gli abbiamo dato 7 anni di cassa integrazione del 2008 quando dovevano arrivare i capitani coraggiosi, quindi basta con questa Alitalia. Io chiedo soltanto una cosa, non a De Nicola, di cui stimo moltissimo quello che scrive e siamo lì per il commissariamento, ma se noi vogliamo evitare gli aiuti all'Alitalia, il che va anche bene perché è un'azienda privata, è giusto, è giusto, come ho detto nei giorni scorsi, che le compagnie Locosta atterrino negli aeroporti normali e negli aeroporti secondari si facciano dare aiuti di Stato, come dall'aeroporto di Trapani che gli ha dato 6 milioni di euro in un anno per far atterrare l'Italia Nero, cioè gli aiuti all'Italia sono sbagliati, ma allora se sono sbagliati gli aiuti all'Italia, cosa che io condivido siano sbagliati gli aiuti all'Italia, lo sono anche a low cost, se no c'è qualcosa che non funziona, non vedo perché devo aiutare una società irlandese e non la società etiadina italiana all'Italia, nessuna delle due, o no? Vabbè, vi saluto, oggi rassegna stampa light, vi do appuntamento a domani, ciao!